No, Tony Ferguson non va da nessuna parte, non ha intenzione di appendere i guantini al chiodo, le ipotesi e suggerimenti di ritiro per il cucui c'erano già da prima, figuriamoci adesso che ha perso per la quarta volta di fila, oltretutto subendo per la prima volta in carriera un KO vero e proprio, a luci spente, contro Michael Chandler. Dana White ha dichiarato che è stato uno dei KO più brutali che abbia mai visto e in effetti quella di UFC 274 è stata davvero una notte tragica per Tony Ferguson e per i suoi fan, soprattutto perché Ferguson sembrava essere tornato quello di un tempo quando ha disputato un ottimo round in cui ha anche messo knockdown l'ex campione Bellator round che poi ha finito con Chandler sopra Ferguson grazie a un takedown, ma di sicuro è stata una ripresa competitiva dove il cucui si è comportato molto bene facendo vedere anche un movimento di braccia impressionante. Poi nel secondo round, in 17 secondi, finisce tutto. Il calcio frontale di Chandler manda Tony al tappeto e ha messo la quarta sconfitta di fila nel suo record. Tony però ha smentito subito le possibili ipotesi di ritiro. Su Twitter ha postato un tweet in cui, dopo aver fatto i complimenti a Michael Chandler e aver detto che si sentiva in gran forma, ha specificato esplicitamente che tornerà. D'altronde le quattro sconfitte di Ferguson sono arrivate tutte contro fighter piazzate altissime nei ranking, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Benel Darius e anche Michael Chandler appunto. Sarebbe bello poterlo rivedere all'opera magari contro un fighter meno di rilievo per vedere se l'ormai 38enne ed ex vincitore dell'Ultimate Fighter ha ancora soddisfazioni da regalare a se stesso e ai fan di questo sport. Però ragazzi c'è anche da dire che i danni poi accumulati portano anche dei problemi irreversibili. Quindi secondo me per come la vedo io Tony Ferguson è meglio se si ritira. È brutto da dire, dispiace soprattutto non vederlo in un altro palcoscenico l'ultima volta magari cercando di impressionare il pubblico e regalarci una vittoria per salutarci a tutti quanti nel modo più bello possibile. Però ragazzi siamo veramente alla frutta secondo me. Tuttavia se proprio vogliamo fargli fare un ultimo incontro allora o si prende uno di sminchiabile che ci può regalare una vittoria facile e chiudiamo il separio così o altrimenti ci potrebbe essere l'opzione McGregor. Come sappiamo Conorazzo non viene da un periodo molto roseo nella categoria dei pesi leggeri. Anche lui deve rilanciare la sua carriera. Entrambi sono su una posizione simile e magari una vittoria l'uno sull'altro potrebbe regalare un ultimo sprint a uno dei due. Detto ciò fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ditemi se vorreste rivedere Tony Ferguson combattere un'ultima volta o se forse è meglio che pensi al ritiro. Un saluto all'Italian Fight Magazine il più grande canale di MMA che parla italiano.